I propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronte tagliate nei campi, quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide. Padre e conforto mi fai con tutto il cuore, e le mie voce sempre io ti adoro. O poli tutti, acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al re. E in te, mio Dio, Signore, gloria e pari a te, ora e per sempre, voglio donare il tuo grande amore. Prima stazione, Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Gesù lava i piedi dei suoi discepoli durante la cena. Grazie. 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 Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gesù è tradito da Giuda nel l'orto degli olivi. Gesù è traizionato da Giuda nel l'orto degli olivi. Gesù è trahi da un giudano nel mondo delle olive. Gesù è di giudano in giudano dell'olivio. Gesù è di giudano in giudano dell'olivio. Gesù è di giudano nel giudano dell'olivio. Dal Vangelo di Matteo Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Gezzemani, e disse ai discepoli Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare E presi con sé, Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e angoscia E disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me Andò un po' più avanti, cade faccia a terra e pregava dicendo Padre mio, se è possibile, passi da me in questo calice Però non come voglio io, ma come vuoi tu Poi venne dagli scepoli e li trovò addormentati E disse a Pietro Così, non siete stati di capaci di vegliare con me una sola ora Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione Lo spirito è pronto, ma la carne è debole Mentre ancora egli parlava Ecco arrivare Giuda, uno dei dodici E con lui una gran folla con spade e bastoni Mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo Il traditore aveva dato loro un segno dicendo Quello che bacerò è lui, arrestatelo Subito si avvicinò a Gesù e disse Salve Rabbe E lo baciò E Gesù gli disse Amico, per questo sei qui Allora si fece davanti Misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono Sono scappato Uscito di corsa da quella stanza opprimente Fuggito Da quella condivisione del pane che Gesù mi aveva offerto Da quello sguardo che mi scavava dentro E notte Intorno a me, dentro di me Sono scese le tenebre ma cosa importa Tutto l'amore Tutto l'amore Tutto l'amore Tutto l'amore Tutto l'amore Me lo fumo E la stia te Mi vado in te Sigure, ben con me Nelle tenebrezze che Voglio stare con me Più vicino a me Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, nega il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Gesù è denato da Pieter nel paio di Piazza. Gesù è denato da Pieter nel paio di Piazza. Gesù è denato da Pieter in il Paio di Piazza. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Gesù è denato da Pieter in il mondo. Gesù è denato da Pieter in il mondo. Gesù è denato da Pieter in il mondo. Grazie a tutti.